Ben tornato da Duini Gianmarco della Posiglio Podolce Officina, decima edizione di Repanettone, cosa ci avete portato di buono quest'anno? Quest'anno abbiamo portato una novità che è un panettone pistacchio di bronte visciole a Marene di Cantiano, abbiamo riproposto il nostro tradizionale che ha avuto tanto sesso lo scorso anno, quindi siamo qua. Quest'anno su richiesta ovviamente dell'organizzazione è anche un panettone salato, quindi parmigiano reggiano, pecorino romano e pepe, quindi un panettone ovviamente da tutto l'anno che noi chiamiamo Crescia, che si abbina ovviamente, si sposa bene con Salumi ma anche da sola. Quindi molto contenti della manifestazione, ovviamente è una bellissima realtà per la decima volta, noi siamo qua per la quinta volta, fila tutto liscio, appena partiti, abbiamo un altro giorno e mezzo a disposizione, quindi speriamo poi termini come è iniziata. Le faccio tanti complimenti, mi auguro di rivederle anche l'anno prossimo e buone feste. Grazie a voi e buone feste a tutti!